Ci troviamo qua con il Collino di Baia, che sarà anche il nostro consulente tecnico per quanto riguarda il campionato di Serie D a cui parteciperà la squadra di Piedimonte. Allora, cosa ne pensi di questo progetto? È un progetto che si sarebbe già dovuto fare un po' di anni fa, perché Piedimonte è un comune abbastanza grande, circondato da piccoli comuni, con un ottimo impianto calcistico. Non vedo il motivo per cui un paese come Caglianello, come Macchia di Sernia, come Paesini Montani, piccolini, possano sostenere questa categoria e Piedimonte. Sono contento e molto fiducioso di questa nuova avventura. La squadra sarà diretta da un allenatore che ha giocato anche in Serie A, Corrado Urbano, tu lo conosci bene. Dicci un po' a cosa può portare questa nuova allenatore. Corrado Urbano non è che ha giocato anche in Serie A, ha giocato in Serie A e in Serie B e ha fatto qualche campionato di C, ma prevalentemente ha giocato in A e in B, ha vinto due campionati di A e di B, con l'Empoli e con il Bari andando in A. Io personalmente penso che sia una garanzia. Come calciatore non posso giudicarlo perché lui ha fatto categorie superiori a me, dovrebbe giudicare lui me. Quindi io ho giocato semplicemente solo in C. Ma non diciamo semplicemente perché tu e tuo fratello siete stati gli unici da queste parti che avete giocato a livelli professionistici. Corrado Urbano che ha disputato campionati di B vincendole anche di A, insomma ho fatto delle categorie inferiori alle sue. Io penso che come tecnico sia una garanzia perché poi mi sono sempre scimentato a vedere, a relazionarmi sui campionati di quarta serie, specialmente nei gironi limiti fra noi, la Bruzzese, il Pugliese e il Campano. E lui in realtà non grandissime come Cassino, anche quando era a Venafro, ha fatto bene. Anche nell'ultimo campionato lui era ridosso delle prime squadre, insomma, le squadre si contendevano nel campionato. Io penso che sia una garanzia, io penso che una mossa ottima che ha fatto la società è proprio prendere Corrado Urbano. Diciamo che si stanno muovendo bene i calciatori, non credo che tu li possa conoscere perché questi hanno militato in campionati di serie D recentemente. Come calciatori sicuramente no, però penso che Urbano, che sia ormai un allenatore conclamato di questa categoria, uno dei migliori, li sappia tutti quanti. Io non potrei solamente mettere lingua quando vedo all'opera i calciatori. Senti, per quanto riguarda il terreno di gioco, tutti adorano questo campo di Piedimonte, è un terreno perfetto, una struttura ottima, però pare che ci siano dei problemi a livello strutturale per quanto riguarda l'ospitalità. A me questo lo si sapeva perché per le misure di sicurezza il nostro campo non è idoneo, non sarebbe data l'agibilità, stante così le cose. Penso che già si sarebbe dovuto mettere in moto una situazione per creare le strutture con l'emissario della Lega. Non so chi viene a fare la verifica dando indicazioni alla società per le modifiche. Ti dico che un emissario della Lega è arrivato, però tu lo sai che qui c'è una crisi sul Comune che potrebbe mandare a rotoli tutto questo progetto. E vabbè, ma penso che comunque con un po' di buonsenso tra la società e tra il Comune, mica si può rinunziare, cioè una volta che si è conclamata la Serie D, mica possiamo mandare a giocare il Piedimonte in un altro campo, dopo tanti anni insomma. Senti di fare un pronostico sulle prospettive di questa squadra? No, il pronostico non lo posso fare perché io sono abituato di vedere prima una cosa e di dire la mia, sbagliando o dicendo bene, però di vedere il materiale che c'è prima e poi fare un pronostico.